salve a tutti ecco in eccoci in questo nuovo video penso che ok ho aggiustato l'audio questo non c'entra niente ok allora primessa sto vedendo ormai che da tempo circolano su internet corsi anche di cioè che vantano di essere super economici 300 euro corsi di 20 30 50 lezioni oppure vengono sponsorizzati appunti magari presi da chi un concorso non ha mai vinto e vengono venduti a 40 50 anche centinaia di euro e niente io penso che a volte sia c'è una contraddizione in termini nel senso che quando qualcosa è gratuita e non viene tanto pubblicizzata non viene tanto sponsorizzata magari la si ricerca di meno cioè alla fine avete un docente che sono io con esperienza che ha vinto quattro concorsi pubblici ma lo dico non perché me ne vanto e questo è l'ultimo dei miei motivi non me ne frega proprio niente anzi mi piace darci del tuo mi piace che mi chiamate francesco io ve lo dico perché è importante che sappiate chi sono cioè sono una persona che da anni è nel mondo della scuola ho aiutato tanti colleghi a prepararsi in maniera positiva al concorso e in maniera poi vincente e allora ovviamente ho pensato di rendere pubblico e gratuito il mio aiuto ho deciso di non pubblicare per case editrici ho deciso di non fare lezioni private me l'avete chiesto in tantissimi ho deciso di per una volta di andare contro quelli che sono i canoni dell'economia occidentale e voglio vedere che cosa succede cioè voglio vedere se viene colta questa opportunità in ogni caso oggi voglio intervenire sempre relativamente al porn sapete che quando si affronta nel mio corso un programma si affronta in maniera approfondita affinché la preparazione sia la più ampia possibile ovviamente porn per coloro che mi seguono sanno benissimo che cos'è per porn si intende il programma operativo nazionale e andiamo a capire quali sono un pochettino i tratti fondamentali di questo porn perché ovviamente ci sarebbero tantissime cose da dire però preferisco soffermarmi a tutto ciò che magari può essere una sintesi utile per il concorso io partirei anzi partirò dagli assi prioritari dell'assistenza tecnica e tra cui vedremo che c'è proprio l'istruzione ecco perché poi è così importante parlare del porn e ho visto anzi che nelle varie guide nei vari libri che circolano se ne parla veramente poco tant'è che alcuni non sanno proprio che cosa esso sia finché magari non è entrata a scuola e cominciate a sentire i famosi progetti porn allora andiamo ad analizzare come i criteri del fondo allora scusate che mi sono appunto sto saltando vorrei saltare tutto ciò che non è indispensabile ok allora sappiate che il PON ammonta circa 3 miliardi di euro che è una cifra elevata quindi ovviamente si parla di un non si parla di briscolini ma si parla di un investimento nell'istruzione e nella formazione che riguarda ovviamente sia studenti che docenti scrivo in stampadello va docenti benissimo essenzialmente il 94% dei fondi PON vanno qui poi rimane un 3,7% dedicato all'assistenza tecnica e un 2,3% dedicato al rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate a promuovere un'amministrazione pubblica efficiente questo non ci interessa ovviamente l'ammontare è diviso in regioni e per quanto riguarda l'asse dell'istruzione l'investimento ha delle priorità priorità dell'investimento e queste priorità sono correlate poi a la gerarchia e all'importanza che viene data ai vari progetti perché ovviamente più un progetto segue i criteri di priorità di investimento più un progetto avrà la possibilità di essere finanziato allora i vari le varie tematiche sono la riduzione dell'abbandono scolastico la promozione della parità di accesso all'istruzione prescolare promozione parità scuola prescuola eh no prescuola è un'altra cosa lo devo scrivere tutto accesso istruzione prescolare rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione miglioramento sistemi di istruzione e formazione poi vi è anche l'investimento ovviamente nell'istruzione e nella formazione professionale quindi tutto ciò che riguarda la qualificazione professionale e quindi anche la formazione permanente ci sono poi fondi dedicati all'investimento nelle capacità istituzionali nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni gli interventi quindi promossi da adesso in poi lo chiamerò PON sono abbiamo detto anche al contrasto della dispersione scolastica e al rafforzamento delle competenze di giovani e adulti anche attraverso lo sviluppo professionale e del personale scolastico e hanno una valenza nazionale perché contribuiscono alla strategia unitaria del settore istruzione che punta al rafforzamento e all'innalzamento qualitativo del servizio su tutto il territorio ovviamente poi si tiene conto anche delle regioni più sviluppate e meno sviluppate allora vi voglio dare qualche dato la riduzione della percentuale di giovani in età comprese dalle 18-24 anni che abbandonano precocemente gli studi dal 2004 al 2013 ha visto quindi abbandono ovviamente precocemente sono intendo dire ragazzi che partecipano alla scuola dell'obbligo che sono stati o bocciati più volte o hanno cominciato la scuola in ritardo e la lasciavano a metà percorso nel abbandono precoce degli studi perché alla fine in realtà relativamente a questi progetti PON bisogna dire che ci sono state delle rilevazioni importanti importanti si è passati dal 23% di abbandono prematuro di giovani di età tra 18-24 anni nel 2004 al 17% nel 2013 questo giusto per darvi un dato ovviamente gli sforzi che vogliono che si devono compiere sono maggiori e secondo la strategia europea 2020 quindi cercatela poi eventualmente se vi interessa vi farò un video strategia europea 2020 ci sono diciamo dei passaggi relativi alla normativa che a mio avviso sono molto importanti e hanno come target hanno target altrettanto importanti allora l'obiettivo è quello di ridurre questo tipo di abbandono al 10% quindi l'obiettivo mira a ridurre ulteriormente anche i divari territoriali perché in realtà questa percentuale di abbandono non è costante in tutte le regioni d'Italia e si vuole dare maggiore priorità di intervento alle regioni meno sviluppate dove il tasso di abbandono è ancora elevato ovviamente prevedendo azioni anche nelle altre categorie di regione che registrano ancora fenomeni di dispersione per quanto riguarda le competenze chiave degli allievi già tra gli anni 2007 e 2013 è stato dato un forte contributo al miglioramento delle competenze degli studenti attraverso una vasta gamma di azioni che dovevano incidere su tutti i fattori che influiscono direttamente e indirettamente sulla qualità dei processi di apprendimento quali l'ampliamento quindi target raggiunti così prendete dimestichezza anche con il significato di questo pon che può risultare una parola tanto strana quanto in realtà è importante allora è stato ampliato il tempo il tempo scuola i ragazzi tramite questi progetti e percorsi possono usufruire della scuola per un tempo decisamente maggiore c'è stato una sperimentazione di metodologie innovative sperimentazione ovviamente metodologie didattiche metodologie didattiche innovative ovviamente tutto quello che io vi sto dicendo anche se è rigorosamente gratuito non lo troverete credo da nessuna parte che questi sono dati che mi sono preso stravolando da letture di tanti 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 libri e penso che in nessun corso venga approfondito c'è alcune tematiche vengono approfondite come vengono approfondite in questo canale qui del resto io cerco di fare video che possono essere sintetici al massimo cioè che puntano alla sintesi però è ovvio che se punto anche poi alla completezza del canale di tutti questi video che cominciano ad essere oltre un centinaio è ovvio che devo anche pensare che la sintesi sicuramente è qualcosa di estremamente importante soprattutto per poi per quando si ha un tempo limitato ovviamente durante la preparazione più ci si prepara e più è meglio più è meglio ovviamente ho detto apposta non mi piace non si può dire è un rafforzativo ovviamente è meglio dare durante una preparazione a un concorso ovviamente di rilevanza a mio avviso enorme sulle ricadute che può avere sulla persona perché ovviamente insomma si decide poi di essere insegnanti per tutta la vita e probabilmente quello che si impara e quello che si continua ad imparare ci dà quella marcia in più che può fare la differenza poi si è investito tantissimo infatti su questo ho fatto tanti tanti video sulla didattica laboratoriale perché dovete sapere che in Italia su questo eravamo molto deficitari cioè in Italia si è sempre fatto si è sempre fatta pochissima didattica laboratoriale soprattutto nei licei si sono spesi molti soldi per la formazione del personale docente la formazione che a mio avviso deve ma non solo a mio avviso deve avvenire per tutta la vita e poi ovviamente c'è stato un investimento sulle strutture e servizi di supporto alla scuola questo è quello che è stato fatto ed è anche il target che continua ad esserci quindi target raggiunti e da migliorare da perfezionare ovviamente se poi si è passati anche alla questo ha una rilevanza strategica all'autovalutazione e alla valutazione della scuola autovalutazione e valutazione della scuola questi processi sono stati finalizzati per costruire sono stati finalizzati a costruire e a sperimentare sul territorio delle regioni convergenza degli strumenti e metodi di autovalutazione e valutazione del servizio scolastico con particolare attenzione per i livelli di apprendimento sono state coinvolte ovviamente una numerosità di scuole elevate che appartengono a tutto il territorio nazionale per favorire la massima implementazione dei processi di autovalutazione e valutazione nelle scuole ed orientare la progettazione didattica e l'organizzazione del servizio verso il miglioramento continuo anche a sostegno della completa messa a regime del sistema nazionale di valutazione quindi si è cercato di favorire la massima diffusione di una cultura valutativa all'interno delle istituzioni scolastiche in un'ottica di miglioramento continuo vedete come questo miglioramento continuo si reitera e di gestione trasparente e rendi contabile del servizio ma anche ad orientare l'azione educativa ai risultati promuovendo un'azione di feedback continuo tra curricoli reali e valutazione dell'apprendimento quindi questi sono i target fondamentali che si sono perseguiti ovviamente ripeto se cercate di ridurre il fallimento formativo percoce della dispersione scolastica questo è molto importante cercate di ricordarlo soprattutto se vi dovesse capitare nella prova preselettiva una domandina sul PON quindi ricordate che sono stati previsti interventi di prevenzione e contrasto della dispersione che convolgono studenti a partire dalla scuola dell'infanzia ma che possono comunque includere anche le famiglie e gli attori della scuola quindi il personale docente e non ovviamente che svolgono un ruolo cruciale nel favorire il rapporto positivo fra i ragazzi e l'ambiente scolastico questo a mio avviso è importante dirlo poi sono stati effettuati dico questo e mi fermo altri interventi poi in funzione dei vostri commenti eventualmente deciderò se fare ulteriori video o se per ora è sufficiente così perché sono talmente tanti i discorsi gli argomenti da trattare che in effetti non mi basterebbero mille video allora sicuramente interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità quindi interventi verso studenti o vabbè verso studenti bisognosi ovviamente per studenti bisognosi ricordatevi che ci sono sempre gli studenti che hanno disabilità verso i quali sono state svolte azioni di tutoring e mentoring ricordatevi queste parole che sono fondamentali se non sapete che cos'è non me lo chiedete nei commenti perché ditemi direttamente nel commento fatemi un video fammi un video francese perché ovviamente certe certe questioni non si possono a mio avviso risolvere con un commentino su youtube cioè su youtube nei commenti di youtube ovviamente abbiamo la possibilità di confrontarci e di affrontare delle questioni che sono cioè che si possono commentare ovviamente con un piccolo commento scritto però relativamente al tutoring e al mentoring il commento la possibilità di commentare su youtube sarebbe limitata perché a mio avviso ci vuole un video ovviamente sono stati effettuati anche per interventi verso studenti bisognosi si intendono anche gli interventi di attività di sostegno didattico e di counseling attività integrative quali sportive in orario extrascolastico eccetera eccetera poi sono state effettuate iniziative di seconda opportunità iniziative di per anzi più che di iniziative per la legalità i diritti umani le pari opportunità e la cittadinanza attiva ovviamente penso che questo vi ricorda le competenze chiave le otto competenze chiave sono stati fatti interventi sulla formazione di docenti e sull'azione e sulla formazione di formatori quindi con approcci di metodologie innovative sono stati fatti interventi di orientamento di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi è stato fatto un intervento di rafforzamento delle analisi sulla popolazione scolastica e i fattori determinanti l'abbandono con riferimento ai componenti di genere ai contesti socioculturali economici e locali questo ve l'avevo già anticipato quindi non ve lo riscrivo e bene io direi che basta così perché ovviamente sul pon si può dire veramente tanto e desidero non strafare poi sarete voi la coda la bilancia che mi indicherà se fare altri interventi oppure se possono servirvi video relativi ad altri argomenti sicuramente le richieste sono tantissime e mi avete scritto veramente in molti e quindi io piano piano cercherò di venire incontro a tutti con questo vi auguro buono studio e una buona continuazione di giornata salve a tutti un caro saluto da Francesco